Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale, benvenuti nel canale di podcast in italiano. Sono qui con Jayden e Jayden e questo è il podcast numero 99, baby cakes, baby cakes. Oggi impariamo la frase, I truly think so. I win in the wings. Ok, I truly, shh, not so loud. I truly think so, Goki. Io davvero penso così. Io davvero penso così. All right, try again. Io davvero penso così. Very good, baby cakes, your turn. Io davvero? Sorry, io davvero? Hey, 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 davvero? Just leave it. Baby cakes, your turn. Io davvero? No! Hey, just leave her alone for a minute. Baby cakes, your turn. Baby cakes. Davvero? Good girl. Pencil? Pencil. Cosi. Cosi. Don't do that. Don't listen to him, that's naughty. He's being naughty. Cosi. Cosi. Well done, baby cakes. Thanks very much. And now we're leaving. Thank you, Goki. Bye-bye. See you on your couch. Don't forget to jump in multi-puddles. Finish.